Che dolce ti propone la ricetta definitiva per la torta di compleanno, completa di strati a sfumature rosa e viola, arcobaleno coloratissimo e un bellissimo unicorno. Trasforma una semplice torta di compleanno in una torta magica facendoti aiutare da questa meravigliosa idea di decorazione per torta unicorno. Avrai solo bisogno di colori alimentari, crema di burro e zucchero fondente, per creare il bellissimo unicorno. Cosa stai aspettando? Iniziamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Una nude red velvet cake è sempre deliziosa, ma se la arricchite con strati di crema di formaggio e la guarnite con more, lamponi e meringhe appena sfornate, diventa irresistibile. Che dolce vi mostrerà come preparare tutto questo in pochi semplici passaggi. Allora, iniziamo! Grazie a tutti! 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 Che dolce? Che dolce ti propone un classico dessert francese? La torta opera, che unisce una delle combinazioni di sapori più amate, cioccolato e caffè. La preparazione di questo dolce è sempre stata considerata una sfida. Noi l'abbiamo ridotta a due passaggi facilissimi, in modo che tu possa prepararla con grande soddisfazione. Allora, cominciamo! 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 Allora, cominciamo!